Buongiorno e bentrovati. In questa edizione di mattino 6 di mercoledì 8 febbraio 2017, un martedì, quello di ieri particolarmente intenso e ricco di notizie dalla vicenda legata al presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che è stato vittima di un grave atto intimidatorio alla visita del presidente del Consiglio Gentiloni a Teramo. Gentiloni ha incontrato i sindaci del Teramano per rassicurarli dopo l'emergenza maltempo che si è verificata nel mese di gennaio. Questi temi principali per quanto riguarda la nostra regione, poi chiaramente sulle testate nazionali le vicende principali sono quelle legate a Sanremo, all'inizio del festival di Sanremo, ma anche alla vicenda Raggi a Roma, la sindaca che è stata nuovamente indagata. Ma partiamo dalle prime pagine delle testate locali e poi passeremo anche alla rassegna nazionale. Qui siamo sulle quattro edizioni del centro, intanto con il titolo di apertura, Gentiloni in Abruzzo. Ce la faremo, ma il centrodestra attacca, inutile passerella, pronti a marciare su Roma. Poi alcuni richiami di spalla, prima però vediamo anche al centro la fotonotizia, una foto del presidente Daniele Sebastiani, accanto la sua macchina, il suo SUV messo a fuoco con l'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Il tutto è accaduto alle 3.30 di due notti fa. Non mi faccio intimidire, se dovessi lasciare la squadra in mano a dei delinquenti ci metterei un attimo. Poi i richiami per quanto riguarda i fatti nazionali. Sindaco dei Guai, Raggi indagata per la nomina di Romeo, Europa al Bivio, Padoan, l'Italia sarà nel gruppo che conta. E poi Bagnè in Fiamme, il giovane abusato da agenti, Parigi nel caos. E poi ancora di spalla, vasto, l'incontro con il sottosegretario Chiavaroli. Dirello in cella, per me la vita non ha più senso. Dopo la valanga, negozi e sport così farindola prova a ripartire. Blackout in regione, maltempo, Enel in Abruzzo, risarcimenti extra. E poi in basso, veleni di bussi, le difese all'attacco, via dal processo le carte della Gerardis. Consiglio regionale aperta all'avvertenza sui danni della maxinevicata. In basso, quella che è la prima pagina della versione aquilana, la prima pagina dell'Aquila. Accademia delle Belle Arti, Aquilani, basta, piagniste, il richiamo di Paolo Mieli, serve più fiducia nel futuro. E poi a Sulmona, furto a scuola, spariti 20 computer. E poi la prima pagina dell'edizione di Chieti. In basso, vediamo, muore a sette giorni dallo schianto, incidente alla Trinità, la donna di 53 anni dona gli organi. Adatta essa, premio di 1200 euro agli operai del Sevel. Edizione Terramana, in basso, l'emergenza, disastro frane, strade sparite, paesi e contrade isolati. Sgomberate decine di famiglie. Poi ancora Terramo e Silvi, appalti degli scuolabus in nove, rischiano il processo. Edizione di Pescara, sempre in taglio basso. Case sulla riviera, stop del Tar, bocciato il ricorso della società, passa alla linea del comune. E sempre a Pescara, psicoterapia ogni quattro mesi, aperta una inchiesta. La prima pagina del messaggero Abruzzo, il titolo d'apertura. A fuoco le auto di Sebastiani, attentato nella notte contro il presidente del Pescara Calcio. A fuoco una Jeep e una Smart, le fiamme hanno lambito l'abitazione. La figlia su Facebook, questa città, non merita nulla. Le indagini, quattro volti nelle immagini delle telecamere. La Digos punta sul tifo organizzato. Sotto la testata, Valanghe, l'omaggio del Festival di Sanremo per Rigopiano. Valanghe, l'Aquila ricorda le tre vittime di 34 anni fa al Monte Ienca. Poi ancora sul Mona, la beffa, spalla la neve davanti al monumento. Multato, decisamente strana, l'avventura in città capitata da un imprenditore, Pasquale di Toro, che voleva ripulire da volontario la statua di Ovidio. Poi ancora di spalla, radioterapia, 100 milioni per migliorare le cure. Emendamento decisivo con la firma del deputato abruzzese, Maria Amato. E poi ancora, taglio medio, sisma e maltempo, blitz di Gentiloni, Teramo riparte. Visita sorpresa del Premier, procedura e celeri per le scuole. Non perdiamo la fiducia. In basso la sentenza, Pescara Porto, no al ricorso. Prima pagina della città, vediamo al centro Passerella con promessa di ritorno. Il Premier Gentiloni a Montorio e Teramo rassicura, ma non prende impegni. Poi ancora, neve e terremoto, la nomina regionale, 20 nomi in lizza per l'ufficio ricostruzione. La misura speciale, indennizzi extra e risarcimento danni da Enel. Emergenza strade, tagliati fuori dalle frane in migliaia. E poi ancora, sotto la testata, il restyling del corso a Teramo resta bloccato. Ancora lungaggini per il cantiere infinito. La sentenza, gli ex soggesa vanno riassunti nel CSA. Teramo, ex colonnello della finanza, nuovo AD di Team. C'è poi la riflessione di Simone Gambacorta, la politica della sciarpetta, sempre in riferimento alla visita di ieri del Premier Gentiloni. In basso, scuolabus pericolosi in nove rischiano il processo. Nei guai i vertici frate Arcangeli, l'ex assessore Romanelli e due funzionari comunali. Poi ancora in basso, Coppa Italia, oggi Teramo contro l'Ancona, con la testa già puntata sulla sfida di Fano. A Roseto, verifiche, chiesto l'aiuto degli ingegneri. Possiamo lasciare per il momento le testate locali. Andiamo a effettuare ora lo sfoglio delle prime pagine delle testate nazionali. Possiamo iniziare dal Corriere della Sera. Ecco qui, debito e spread, i timori agitano la maggioranza. Padoan, manovra necessaria. Ora privatizzare. Poi la fotonotizia picchiato e violentato dagli agenti a Parigi. Le Bagnè in rivolta per Teo. E poi ancora il debutto di Sanremo. Tiziano Ferro, omaggio a Tenco e Crozza. Io gratis non lavoro. E poi ancora in taglio medio una nuova accusa a Raggi Di Maio. Ecco i cronisti nemici. All'ordine della lista di proscrizione dei 5 Stelle. E poi ancora incinta a nono mese. E brava la assumo. La scelta di un imprenditore. Mia moglie fu lasciata a casa in gravidanza. So che cosa si prova. La prima pagina di Repubblica. Raggi ancora indagata. L'ira del Movimento 5 Stelle. Abuso d'ufficio per la nomina di Romeo Di Maio. Lista di giornalisti sgraditi. Ci hanno infangato. Il governo studia un piano di privatizzazioni. Padoan, lo spread, ci ricorda che il debito è alto. E poi sotto la testata, nelle colonie fuori legge. Dove Israele sfida il mondo. E poi ancora tornando in basso. Carlo Maria e i cantanti comparse. La prima serata nel segno di Conti e De Filippi. La prima serata chiaramente del festival di Sanremo. Il messaggero BC è l'arma contro lo spread. Eurotower pronta a prolungare e incrementare l'acquisto di titoli per garantire liquidità. Draghi e Merkel vertice per blindare l'euro. Padoan la riduzione del debito. E' la priorità. E poi ancora polveriera Francia. Rivolta a Bagliere per un giovane pestato da agenti. L'editoriale di Giulio Sapelli. I rischi dell'unione. Ma l'Europa non resisterà a un'altra exit. E poi ancora la fotonotizia. Fiorentina battuta 4 a 0. Doppietta di Gieco. La Roma fa poker con i viola. E continua la caccia al Juve. Raggi indagata anche su Romeo. La lista del Movimento 5 Stelle dei cronisti sgraditi. Nuove accuse per la nomina del caposegreteria. Il caso Di Maio. E poi ancora mafia capitale. Archiviazione per Alemanno e Zingaretti. La prima pagina della stampa. Raggi Nuova Tegola. Indagata per la scelta del super consigliere. Lo sfogo dell'assessore all'urbanistica. Impreparata con una banda intorno. Ipotesi di abuso d'ufficio dopo la nomina di Romeo. E poi al centro vediamo pestato dagli agenti. Rivolta nelle baglie. Parigi. Il ragazzo dell'ospedale. Basta violenza. Il giovane stuprato con un manganello. Le Pen sto con i poliziotti. E poi Sanremo Conti De Filippi. La strana coppia funziona. Graffia crozza. Emoziona Tiziano Ferro che canta tenco. Il giornale. Colpo di mano. Le forze armate finiscono in mano a giudici e PD. Cambia tutto. Chi gestisce fondi e scelte sarà un civile. In lizza anche la Finocchiaro. E poi flop del processo mafia capitale contro ordine delle toghi. A Le Manno non è mafioso. E poi in basso il caos credito. Banche blindati i nomi degli insolventi. Il tempo non lascia. Raddoppia. La sindaca resiste. Rilancia e delira. Parlando di 91 problemi risolti per la capitale. Ma i PM la indagano un'altra volta per la nomina di Romeo. Quello della polizza. E poi che stecca alla Fiorentina. La Roma vola. I viola asfaltati per 4 a 0. Libero. Felici e perdenti. I partiti si agitano e si sfasciano. Il Movimento 5 Stelle è in calo. Causa le vicende romane. Il PD litiga e rischia di scendersi. Il centrodestra avrebbe la possibilità di vincere. Ma è disunito. Salvini, Berlusconi, Meloni, Alfano e Verdini hanno in mano il pallino. Non lo buttino via. E poi ovviamente Sanremo. Anestesia totale. Il festival narcotizza il paese. Crozza, sfotte, grillini, leghisti e renzi. Ma ride solo conti. La serata guastata dal suicidio di un artista disabile. L'unità, l'Italia a due velocità. Quella che guarda gli Stati Uniti ed Europa e quella che invece vuole ingranare la retromarcia. Nel 2016 risparmiati 17 miliardi di interessi sul debito. Badoan no all'aumento dei tassi. E poi la rabbia di Parigi. Giustizia per Teo nella rivolta delle Baglie. Come abbiamo visto. Il fatto quotidiano decreto terremoto. Ora lo Stato paga per rifare le case abusive. Falla nella norma. Gli immobili fuori legge possono avere fondi pubblici sotto la testata. Mani pulite 25 anni dopo. Anche i giudici dimenticano di Pietro e Davigo in un'aula deserta del Palagiustizia di Milano. E poi nomine a Roma. Casoromeo è indagata pure la Raggi. Avanti con il manifesto Terre rubate. E questo è il titolo di apertura. E poi Teo violentato dagli agenti di polizia di spalle. Anche in questo caso si parla dell'indagine bis cui è sottoposta il sindaco di Roma Virginia Raggi. Il secolo XIX. Il caso Amio. Il sindaco alla capolinea. Genova bocciata. La fusione con Iren. Doria. Un'noda irresponsabile. La maggioranza in comune che non c'è più. Comune chiaramente è quello di Genova. E poi la fotonotizia con il festival. Ok Conti dei Filippi. Crozza punge. Sanremo. La coppia scoppietta. E poi ancora avvenire. Traffico d'organi. Un velo da alzare. La Santa Sede. Agisca l'ONU. Complicità sanitaria. Il gazzettino. Pop Venete. Fusione a settembre. E poi ancora il mattino. Scuola. Lo scandalo bonus libri. Da Torino a Napoli. Le famiglie indigenti non hanno ancora ricevuto gli aiuti. La gazzetta del mezzogiorno. Padoan. Il nemico. E il debito. E sgarbato. Non vede l'impegno per migliorare i conti pubblici. Mastic. 25 anni fa. Il via al trattato. Oggi nell'occhio del ciclone. A Sanremo. Brilla la stella di Albano. Possiamo lasciare i quotidiani nazionali e possiamo tornare a quelli locali andando sul centro. Pagina 2 e 3. Calcio e ricatti. Incendiate le auto di Sebastiani. A fuoco la Jeep SUV e la Smart del numero 1 del Pescara. Dalle telecamere della zona possibile la svolta per le indagini. E poi in otto mesi dalla festa per la A alla paura. A dicembre le prime contestazioni. Poi i soliti attacchi sui social. Le scritte offensive sulle strade. C'è l'intervista al presidente del Delfino. Non cedo alle estorsioni. Solo fango sulla città. In mattina tra l'intenzione di mollare. A fine stagione poi correggio il tiro. Vendo solo a chi è meglio di me. E poi ancora il mondo del calcio solidale con il patron da Oddo ad Allegri. Passando per Malagò, Tavecchio, Abodi, Gravina e l'ex AD Biancazzurro, Gian Nascoli. E allora andiamo a ripercorrere la giornata di ieri. Passando per il servizio appunto in cui si parla di questo grave atto intimidatorio. Di cui è stato vittima il presidente Sebastiani. E poi le dichiarazioni del presidente del Delfino. Vediamo. Incendiate le auto del presidente del Pescara Calcio nel cuore della notte. Un atto inqualificabile secondo la Lega di Serie A che esprime in una nota la vicinanza a Daniele Sebastiani. Un atto intimidatorio che è stato solo l'ultimo di una serie. Un crescendo negli ultimi giorni. Una tensione palpabile tra la tifoseria e la società. Che ha visto prima striscioni di contestazione rivolte al presidente, al tecnico Oddo. Poi la contestazione al termine della partita contro la Lazio. Conclusa con una sconfitta per 6 a 2. E proprio a causa delle accuse definite sopra i toni. Il patron del Delfino aveva annunciato l'intenzione di lasciare la sua presidenza al termine del campionato. Stanotte poi l'azione intimidatoria dentro le mura dell'abitazione. Alle 3.30 Daniele Sebastiani è stato svegliato dalle fiamme che divampavano nel cortile esterno. Distrutto il SUV del quale resta la scocca e danneggiata anche un'altra auto posizionata poco più avanti. Saranno gli uomini della questura di Pescara mediante le telecamere di sorveglianza a ricostruire la dinamica. Se sia stata lanciata una bomba incendiaria dentro al cortile. O se qualcuno si sia introdotto dentro la proprietà per cospargere i mezzi. Con liquido infiammabile. In precedenza già altre azioni della tifoseria avevano coinvolto Sebastiani. Succeduto a De Cecco nel 2012. Spaccate le vetrate degli uffici in via Paolucci. Poi un episodio simile a quello di stanotte sempre contro la proprietà del presidente. A manifestare vicinanza e solidarietà Sebastiani è anche il tecnico Oddo. Che con un tweet ha dichiarato quando i limiti dello sport vengono superati sfociano nella tristezza più assoluta. Anche il sindaco di Pescara e l'assessore allo sport denunciano la violenza non è mai un gesto vincente. Un caso che scuote la città e la sporca del colore della prevaricazione e dell'illegalità. Colori lontani dai valori dello sport e dal senso di unione che una città prova per la sua squadra. Qualunque sia il suo risultato sul campo. La dimostrazione è che purtroppo sono gesti fatti senza pensare le conseguenze per una squadra di calcio. C'è da pensare, ti fa pensare e ti fa rimanere molto male. Mi dispiace di aver scritto un altro record, non è mai accaduto, evidentemente sono l'uomo dei record a Pescara. Dispiace perché purtroppo non è il gesto che è condannabile a prescindere, ma per quello che è stato fatto in questi anni per rilanciare il nome di Pescara e della squadra di calcio del Pescara. Andare a salire alla ribalta delle cronache nazionali per un gesto come questo sicuramente non porta nulla di buono per il Pescara, non per Sebastiani. Dopo la sconfitta con la Lazio, anche i nostri microfoni, lei aveva detto che avrebbe rivisto la sua posizione al termine della stagione e che stava pensando, perché no, anche di lasciare la presidenza del Pescara alla luce di quello che è accaduto questa notte. Qual è ora il suo pensiero? Io confermo quello che ho detto dopo la partita perché non l'ho detto a caldo, perché a mio avviso se una persona non è ben voluta non deve stare a dispetto dei Santi perché per me non è un lavoro il Pescara, anzi è un impegno oneroso, importante, che toglie spazio alla mia vita privata, alla mia famiglia, alle mie attività. Non ci devo stare per forza, però purtroppo bisogna anche capire che questa è una città piena di chiacchiere perché la realtà poi è un'altra e soprattutto si spingono le folle quasi all'odio su falsità evidenti. Non è che quando sento dire dimettiti, io non faccio il politico che mi devo dimettere, questa non è società di capitali e se qualcuno deve sostituirci evidentemente deve prendere le nostre quote e noi andiamo a casa, quello sì. Io per stare qui ho messo dei soldi, ho messo impegno, ho messo passione, ho tolto dello spazio a me e alla mia famiglia e quindi se qualcuno vuole venire a prendere il mio posto la strada è non aperta, spalancata, non mi porterò mai sulla coscienza di lasciare una società solo per disfarmi di una società in mano a delinquenti perché è la mia città e quindi a seguito di questo poi io valuterò tutto quello che avverrà. Ma bisogna valutare quello che c'è, non quello che si chiacchiera perché quello che si chiacchiera con le chiacchie non si va da nessuna parte. E quando io poi sento parlare di offerte a destra e a sinistra e a me nessuno mi ha mai offerto nulla, anzi forse il contrario, allora lì capisci che c'è qualcosa che non va, cioè il Pescara se si vuole acquistare bisogna fare delle offerte e non mettere le bombe. Proseguiamo Rigopiano dopo la valanga Farindola pronta a chiedere i danni, il comune si affida un legale a tutela dell'immagine, l'alpinista catalano 18 anni fa un disastro identico. E poi riapre anche il re degli arrosticini, titolari della trattoria L'Ustrego, isolati dalla neve per giorni. Non mogliamo, siamo rimasti prigionieri nel locale per una settimana, non sapevamo della Slavina. E poi oggi la squadra torna in campo a Pescara contro la Protirino con la divisa dell'hotel Rigopiano per Roberto, nostro primo tifoso. Avanti, siamo alla visita del Presidente del Consiglio Gentiloni a Teramo, emergenza regione Gentiloni in Abruzzo, così ce la faremo. Annunciate misure per Teramo, ad Alfonso Fondi per danni indiretti, il capo del governo ha incontrato i sindaci terramani nella zona del cratere, accompagnato da Errani e Curcio, il governatore chiede provvedimenti più stringenti, voglio strumenti idonei, rilevanti e una copertura adeguata. E poi le parole del sindaco di Teramo, Brucchi, serve un intervento immediato, protesta dei primi cittadini non ammessi alla riunione, non c'è niente per il maltempo. Il Presidente della provincia di Sabatino, la protezione civile deve emanare i decreti e per la nostra zona abbiamo chiesto azioni speciali. Il centrodestra che replica inutile passerella, siamo pronti alla marcia su Roma, i consiglieri regionali attaccano il governatore, maleducazione istituzionale, non aver invitato tutti, ora il decreto va corretto perché così è una beffa, si prepara una manifestazione sotto il Parlamento. E poi la tappa nel centro più colpito, a Montorio lo implorano, ci aiuti a restare qui. Avanti ancora, siamo al delitto di Vasto, per me la vita ormai non ha più senso. Lo sfogo di Dilello in carcere durante l'incontro con la sottosegretaria Chiavaroli, che al centro racconta, ho trovato un uomo provato. E poi ancora, determinanti cellulari di vittima e omicida, la perizia comincia domani a Pescara. Dalla sua cela è stata tolta ogni cosa che possa essere usata per farsi del male, come i lacci delle scarpe. Gli ho detto che la vita vale la pena comunque di essere vissuta. Queste le parole del sottosegretario Chiavaroli. In questo caso è la dimostrazione che chi commette gesti simili dopo non sta meglio, ma finisce per stare addirittura peggio. Quel che ha fatto non lo ha sollevato. In questa vicenda i social sono stati usati in modo improprio e deprecabile. Deve passare il messaggio che la fiducia nella giustizia prevale sul desiderio di farsi giustizia da sé. E poi dall'odio all'appello per la pace, lo shock del primo febbraio e gli sciacalli. Una settimana terribile per la città. Sul fronte dell'inchiesta le fotografie del crimine mostrate all'indagato per scuoterlo dal silenzio. Di Lello resta zitto anche davanti alla madre che lo rivede per la prima volta. Il difensore gli porge le immagini con il corpo d'Italo, ma lui non reagisce. E poi ancora Vasto però cerca di tornare alla normalità. Ieri il bar ha riaperto e sono spariti i fiori sul luogo del delitto. Ma qualcuno ha aperto su Facebook il profilo. Fabio Di Lello, libero. Proseguiamo con le pagine della regione Abruzzo. I danni del maltempo, risarcimento, aiuti e maggiori investimenti. Aperta l'avvertenza, passa in consiglio regionale il documento se l'emergenza abruzzese si punta sulla prevenzione dal servizio multirischio alla sicurezza. E poi ancora il conto dei disservizi. Indennizzi Enel li raddoppia. No alla commissione di inchiesta. L'azienda dà il via libera risarcimento aggiuntivi a quelli automatici in bolletta. Ecco come fare mentre in aula vanno a vuoto gli inviti e trovano un accordo bipartisan sul documento unico. Il PD respinge la proposta dei 5 Stelle. C'è già la commissione di vigilanza. Non serve fare altre nomine e distribuire altri incarichi. Perderemo soltanto tempo e risorse. Forza Italia prova a mediare con la maggioranza. Intanto il coordinatore regionale annuncia che la manifestazione azzurri in vetta non si farà in segno di lutto dopo Rigopiano. Pagine di Pescara, la sanità, il cittadino, allergologia, lunghe attese, servizi divisi e costi elevati. Il reparto è stato smembrato e occorre aspettare fino a giugno per le visite. Terapie ogni 4 mesi. Ora indaga la procura. Ha aperto un fascicolo dopo gli esposti delle pazienti vittime di abusi. Avanti ancora il TAR stoppa le case sulla riviera sud. Bocciato il ricorso della società Pescara Porto ha accolta la linea del comune. Ora la discussione si sposta in consiglio. Lotta ai cyberbulli. Un test anonimo per aiutare i ragazzi. In tribunale gli esperti incontrano gli studenti del Marconi. L'aggressività è disagio ma difendersi è possibile. Avanti ancora le iniziative per i saldi. Illuminarie fino al 15 febbraio. Una spesa da 190 mila euro. Centro ancora illuminato dalle luci natalizie ma i commercianti sono soddisfatti. Dopo un gennaio nero serve calore e i clienti vengono da fuori per vederle. Avanti ancora con la pagina di Montesilvano. Igiene urbana si volta pagina. Comincia nel borgo la raccolta dei rifiuti porta a porta. Il colle sarà il rione pilota per l'avvio del nuovo sistema. Poi toccherà al quartiere popolare. E infine al centro. Avanti ancora a Città Sant'Angelo. Folla per l'addio ad Andrea tra lacrime e palloncini. Centineia di persone a Città Sant'Angelo per il 38enne morto domenica. Il ricordo di un amico era buono, solare, scherzoso e stava bene con chiunque. Dunque le immagini sono gli scatti del funerale di Andrea Vadini a Marina di Città Sant'Angelo. In basso il vertice H deve dimettersi. Offensiva di otto sindaci di comuni pescaresi amministrati dal centro-destra. In Val Pescara, Cepagatti, la centrale a biomasse è in regola. Comitato del no bocciato al Tar. Cepagatti depositata dopo quattro anni la sentenza di merito sulle istanze presentate da Comune e Centro Assemblea Cittadina che si erano battuti per contrastare l'impianto del Sinergas. Frane e terremoto, sgomberate otto famiglie, emergenza a penne in tutta la zona vestina e a Villa Cegliera sei abitazioni interessate da un movimento franoso. Pagina di Chieti, la fabbrica del Ducato, Sevel, premiati 6.000 operai in busta, paga 1.200 euro in più. Il bonus retributivo sarà erogato questo mese a tutti i lavoratori dello stabilimento di Atessa. Soddisfatti i sindacati, ma la fiume è critica. Il salario resta il più basso tra tutti i metalmeccanici. In basso, incidente in piazza, Angela non ce l'ha fatta. La cuoca di Chieti muore sette giorni dopo lo schianto. I parenti dicono sì alla donazione degli organi. Pagina dell'Aquila, il futuro della città. Aquilani, basta con i piagnistei, altrimenti l'Italia volta pagina. Il richiamo dello storico Paolo Mieli all'inaugurazione dell'anno di studi dell'Accademia di Belle Arti serve più fiducia nel futuro e i politici non facciano soltanto la corsa alla loro riconferma. Poi la rettrice, bisogna uscire dalla dimensione sisma. Il presidente Marotta concorda con l'analisi del noto giornalista. La nostra città è splendida, dobbiamo riconquistarla. E infine, la pagina di Teramo, i danni del maltempo. Incubo frane, strade chiuse e decine di sgomberati, arripe, minacciate le case. A Teramo, contrade, senza più collegamenti. In basso, appalti scuola bus, chiesto il processo per nove. La procura chiude l'inchiesta, indagati i vertici della Fratt Arcangeli e l'ex Assessore Romanelli. Ci fermiamo qui per ora, prima di vedere anche altri servizi e di vedere le pagine di Messaggero Abruzzo e della città. Diamo spazio alle previsioni del tempo e poi alla pubblicità. Eccoci rientrati, seconda parte di Mattino 6. Di nuovo, buongiorno. Siamo sulle pagine ora del Messaggero Abruzzo. Neve e terremoto, operazione fiducia di Gentiloni a Teramo. Visita a sorpresa del Premier, che promette procedure e celeri per le scuole. Alloggi d'emergenza e rimozione delle macerie. Tappa a Montorio, poi l'incontro in provincia con i sindaci, deputati, assenti e polemica. Sempre presenti in Ateneo, studenti solidari con D'Amico dopo l'addio attua. Fatto personale le dimissioni dalla SPA regionale dei trasporti. L'università vive una fase positiva. Poi in basso, compagnie sotto accusa per i blackout, ma Di Matteo dice errori anche nostri. In aula il dibattito sull'emergenza meteo. L'opposizione accusa maleducazione istituzionale. Il Premier nelle zone colpite. Andiamo a vedere il servizio relativo alla visita di Gentiloni a Teramo e poi a seguire un botta e risposta tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale proprio sulla visita del Presidente del Consiglio. Il decreto salva Abruzzo non è piaciuto all'Abruzzo e ancora di meno alla provincia di Teramo che esce da maltempo e terremoto con le ossa rotte. La protesta dei sindaci teramani è arrivata a Roma e da Roma oggi è arrivato a Teramo il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Paolo Gentiloni, per una visita prima a Montorio e poi in città dove ha incontrato i primi cittadini dei comuni più colpiti del territorio provinciale. Presente anche l'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe che ha quantificato in Abruzzo un danno indiretto al settore di circa 50 milioni di euro. Questa è la risposta dello Stato. Il messaggio credo che tutti gli italiani conoscono ma di cui dobbiamo essere consapevoli è che una parte del nostro paese è stata ripetutamente colpita in modo molto grave. Non si è trattato solo di un episodio ma purtroppo di una sequenza e questo non deve incrinare la coesione delle nostre comunità e la fiducia nel futuro. Però bisogna lavorare e lavorare in fretta perché solo se le istituzioni dal governo alla regione, ai sindaci, alla protezione civile saranno veramente unite e rapide, questo potrà consentire di restituire fiducia ai nostri territori. Oggi il rischio maggiore è quello di perdere un po' di fiducia nel futuro in queste zone. E quindi bisogna risolvere i problemi di emergenza ma piano piano dare speranza, reinvestire sulle vocazioni di questi territori, sul turismo, sulle imprese, sull'agricoltura. Per me è stato molto molto utile ascoltare le esigenze, i problemi, anche le lamentele che vengono dal territorio e in particolare dai sindaci e tornerò presto. In particolare per il Terramano credo che serva un piano soprattutto sul tema urgente, sul tema della viabilità. Ma poi serve tutto il resto su cui stiamo lavorando, alloggi di emergenza, scuole, rimozione delle macerie. Dispiaciuti ed amareggiati i sindaci di alcuni comuni terramani che non sono rientrati nel cratere, nonostante i milioni di danni che il combinato neve e terremoto ha causato alle loro zone. Hanno chiesto oggi al Presidente Gentiloni di inserirli nel decreto definitivo. Sindaco, che cosa vi siete detti col Presidente Gentiloni? Allora, io ho chiesto veramente con il cuore in mano al Presidente di venire sul mio territorio, perché è un territorio martoriato dall'emergenza neve e sisma del 18 di gennaio. Tutte le aziende agricole hanno riportato danni, non sono più in grado di lavorare, sono in ginocchio. Per cui io ho proprio chiesto al Presidente cos'altro deve ancora accadere affinché Castelcastagna abbia cittadinanza in un cratere sismico. E' coincidenza voluto che proprio mentre il Presidente Gentiloni stesse rassicurando i sindaci terramani sul futuro sostegno dello Stato alla ricostruzione della rete viaria in provincia di Teramo, si è arrivata la notizia di una frana disastrosa sulla provinciale 32 per Castiglion-Messerreimondo, che ha di fatto isolato 11 famiglie della frazione San Giorgio e dell'evacuazione dei residenti di Ripe e di Civitella per lo smontamento della collina. Che oggi è terminata da pochissime ore la visita del Premier Gentiloni a Teramo. Vi aspettavate qualcosa? È stata una visita positiva? Cosa si è detto? Quali sono state le promesse del Capo del Governo per le zone terremotate della nostra Regione? Ci saremmo aspettati comunque, il Presidente del Consiglio si muove quando gli Sherpa hanno fatto un lavoro e lui viene ad annunciare un provvedimento, una dotazione finanziaria, un intervento specifico, l'allargamento del cratere, gli 80 milioni di Euro che hanno stati promessi alle imprese, la sospensione delle tasse magari con la riduzione parziale magari in 10 anni, oppure viene ad annunciare la possibilità di pagare i danni indiretti, oppure soldi per quanto riguarda il cratere cosiddetto nevoso, nulla di tutto ciò. E quindi noi riteniamo che sia una pessima figura da parte del Primo Ministro attuale, ma anche una pessima figura del Presidente D'Alfonso, che non solo non è riuscita a ottenere le cose per le quali ci aveva chiesto la collaborazione e che gliel'abbiamo data e abbiamo visto che nel decreto non ci sono state, ma soprattutto perché l'unica cosa era forse quella di far vedere che il Presidente D'Alfonso fa venire il Presidente del Consiglio a Teramo che non annuncia niente. Comunque basta seguire quello che è stato fatto all'Aquila, i provvedimenti che all'Aquila sono stati dati ai cittadini per poter fare una dignitosa figura. Io credo che il Presidente del Consiglio sia stato molto rispettoso della città di Teramo, della provincia di Teramo, non facendo assolutamente nessuna battuta a spot che possa ingannare. È stato chiaro in alcuni passaggi, mi riferisco soprattutto a quelle che sono realtà all'interno del cratere e fuori cratere dove la delibera, il decreto che sta approntando in questi giorni per chi si sta andando avanti per migliorarlo, non crea nessuna differenza tra coloro i quali sono dentro il cratere e fuori il cratere per gli interventi che bisogna fare. Oggi pomeriggio sarebbe tornato al Consiglio dei Ministri per parlare anche con De Rio per risolvere il problema urgentissimo, quello che sta mettendo in difficoltà molte realtà sulla questione delle strade. Mi sarei preoccupato molto aversi buttato lì dei fondi, dei soldi come spesso si usa a fare in questi casi. Invece è stato chiaro su tre passaggi e su questo poiché la Regione Abruzzo insieme alle altre Regioni si incontrano ogni 15 giorni sarà un tema principale di cui la Regione Abruzzo si farà carico. Sempre sul messaggero Abruzzo a Pescara, su Pescara Porto decide il Consiglio. Il Tar ha rigettato il ricorso di Milie e Mamarella, non ha il permesso a costruire tramite il silenzio assenso. Per i giudici spetta all'aula stabilire se concedere o meno il cambio di destinazione d'uso da uffici ad appartamenti. Il sindaco Alessandrini mi conforta il fatto che la sentenza si dimostri in linea con l'indirizzo dato dall'amministrazione. Poi ancora il Natale infinito delle luci d'artista. Cuzzi restano fino al 15 per i saldi. Anche Daniele Becci, presidente della Camera di Commercio di Pescara, difende la scelta a tirati visitatori da fuori Regione ma sui social fioccano le battute. Avanti ancora terremotati beffati. Modavi paghi. La Corte dei Conti chiede la restituzione di 80 mila euro per la merce mai consegnata agli aquilani colpiti dal sisma. L'indagine riguarda la fornitura di scarpe, ciabatte, pannolini e piccoli elettrodomestici coinvolti. I vertici dell'associazione spunta l'omissione nei soccorsi mancati all'hotel Rigopiano. Il protocollo multirischio della regione svela la responsabilità più antiche del 18 gennaio per la strage causata dalla Valanga. Dalla regione al comune di Farindola ecco chi non ha fatto il proprio dovere per salvare le 29 vite. Siamo nelle pagine dell'Aquila. Il Cotugno in aula al pomeriggio. Da domani alle 14.30 agli studenti del liceo a scuola nei locali dell'Itis a Medeo d'Aosta all'Acqua Santa. Cialente e De Crescentis ipotizzano che sia una situazione temporanea che possa durare per una trentina di giorni. La decisione di ricorrere ai doppi turni presa nel vertice di ieri tra comune e provincia e le presidi dei due istituti. E poi ancora la città paralizzata cresce l'allarme. Noi con Salvini punta sulla fiscalità. I sindacati vogliono gli enti in centro storico. Ancora pagine aquilane. Oggi come nel 1983 la città piange i suoi figli. 34 anni fa la tragedia che sulla Ienca uccise Pier Michele Vizioli, Riccardo Nardis e Stefano Micarelli. Un'esercitazione. Poi la slavina letale. Tante similitudini con le disavventure che in questi giorni hanno angosciato l'Aquila. Strage dell'elicottero. Il 16 febbraio verrà visionata la scatola arancione. Al vaglio degli investigatori anche la presenza di un velivolo della forestale decollato da pescare. Poi ancora Mieli. L'Aquila è allenata a rialzarsi. Cialente è stata una grande fortuna. Il giornalista ha aperto l'anno accademico dell'Accademia delle Belle Arti. Allora andiamo a vedere il servizio confezionato dalla nostra redazione aquilana sulla visita aquilana di Paolo Mieli. Avere fiducia nel futuro e trasmetterla anche all'esterno delle mura cittadine. È l'appello lanciato ai media del giornalista storico Paolo Mieli, intervenuto all'Aquila in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia delle Belle Arti. Un incontro con studenti e autorità per parlare di intellettuali e regime di passato e falsificazioni della storia. Un rischio, quello delle mistificazioni sulle vicende aquilane, che per l'editorialista del Corriere della Sera non esiste, considerata l'alta attenzione che dal 2009, anche se con ritmi alternati, si è sempre concentrata sull'Aquila ed il posto terremoto. Credo che l'informazione all'Aquila nel suo complesso, come diceva la vostra collega, un complesso fatto di carta stampata, televisione, radio e web, è un'informazione davvero molto ricca e documentata e quindi questa volta non c'è un'informazione uniforme. L'unica cosa che io aggiungerei è una nota di fiducia nel futuro, cioè di non fare una cosa solo lamentosa, perché penso che il resto d'Italia, l'Aquila sapete di che cosa si parla ma il resto d'Italia, se derubrica tutto, ha il pianto dell'Aquila a volta pagina, metaforicamente parlando, e non sta più neanche a sentire. Sui numeri dell'Accademia invece parola il direttore Marco Brandizi, soddisfatto per l'aumento delle immatricolazioni e la prossima attivazione di nuovi corsi di studi. Gli iscritti, devo dire, noi abbiamo avuto il raddoppio delle nuove immatricolazioni al primo anno che sono passati praticamente da 90 a 160 e indubbiamente per noi è un risultato ottimo, quindi abbiamo un numero di iscritti intorno alle 400 unità. Si prevederà probabilmente dopo l'ottimo risultato del nuovo corso di fotografia, un triennio che vede 40 iscritti, 40 nuovi iscritti, un nuovo corso, un nuovo triennio dedicato proprio all'arte terapia. Sarà un triennio collegato con dei centri di recupero specializzati nella regione e oltre ovviamente a tutta una serie di altre iniziative che vorremmo fare. Ancora sul messaggero Abruzzo, spalla la neve davanti la statua di Ovidio, imprenditore multato, Pasquale di Toro ha deciso di fare da solo un gesto di civiltà e di amore per la mia città, non mi importa della sanzione. Pagine di Chieti, sosta selvaggia e caos in ospedale, le auto anche su aiuole e rotonde, parcheggi in tripla fila e sui marciapiedi ostacolata persino l'uscita delle ambulanze. La ASL non ha regolamentato le aree interne al Policlinico e le forze dell'ordine non possono intervenire per le multe, disagi vicino al pronto soccorso, posti insufficienti e il doppio senso di marcia non è garantito. Poi ancora in arrivo il reparto di cardiologia Eutic, si completa il polo cuore del Policlinico. Nel fine settimana il doppio trasloco nell'edificio F restano soltanto osservazione breve e rianimazione. ancora Fabio, lacrime in silenzio con i genitori. Ieri mattina per la prima volta Lina e Roberto hanno potuto incontrare il figlio dopo l'arresto per l'omicidio di Italo De Lisa. Domani è il giorno del primo incidente probatorio. È possibile che la difesa punterà sul vizio parziale di mente. Psicologi e psichiatri chiamati dalla difesa stanno cercando di risvegliare il detenuto dallo stato di parziale incoscienza. Avanti ancora con le pagine di Teramo, appalto Scolabus, Neguai, Romanelli e altri funzionari. C'è anche l'ex assessore alla pubblica istruzione nel mirino della procura richiesta di invia giudizio per frode nelle pubbliche forniture e abuso d'ufficio. Poi ancora l'ex amministratore chiamato in causa sulle mancate verifiche sui mezzi della ditta Frate Arcangeli. Sulla costa Giulianova, strada divenuta discarica, scoperti gli autori, sorpresona dopo il blitz del Gaditin via Traversa Cerulli, identificati un commerciante ed un esponente delle forze dell'ordine, rischiano la sanzione amministrativa e denuncia alla procura. L'assessore Ruffini pronti a sistemare anche le foto trappola. soddisfatti i residenti, tutto bene in breve tempo la soluzione del problema. Lasciamo il messaggero Abruzzo e ora andiamo sul quotidiano della provincia di Teramo. Chiaramente anche in questo caso grande spazio alla visita del Presidente del Consiglio Gentiloni. Per Gentiloni passarella Lampo senza impegni. Incontra i sindaci, non tutti, lontano dalla stampa e lancia un appello ai cittadini. Non dovete perdere la fiducia nel futuro. Ancora una volta le istituzioni lasciano la stampa fuori dalla porta. L'incontro in provincia si risolve in una riunione a porte chiuse tra amministratori e nemmeno tutti. Poi ancora serve un altro decreto sull'emergenza neve. I sindaci fuori dal cratere ribadiscono la necessità urgente di risorse finanziarie. Poi le parole del Sindaco di Teramo. Il governo ci aiuti oggi, domani è già troppo tardi. Per Brucchi il decreto terremoto non basta a risolvere i problemi. Poi ancora il Premier Gentiloni è venuto in gita turistica per il centrodestra. Il decreto terremoto è il nulla cosmico e la delibera sulla neve poco più di niente. Risposta inadeguata. Il decreto non dà risposte su come rilanciare una regione a rischio spopolamento dopo la ammazzata neve e sisma. Ancora dopo il terremoto 20 nomi in lizza per l'ufficio ricostruzione. Aspettando la nomina del direttore al genio civile restano in evase centinaia di pratiche risalenti al 2009. L'auspicio Lancia di Teramo auspica che la regione scelga un tecnico che conosca bene il mondo delle imprese e dell'organizzazione. Blackout, Dainel, indennizi extra e risarcimento danni. La società elettrica va ad un ulteriore piano rispetto ai rimborsi automatici già previsti dall'autority. Informazioni e moduli per le richieste sono disponibili agli sportelli e distribuzioni di Pescara, Teramo, Chieti e Ascoli. E poi ancora scuole. Oggi rientro in aula per altre due scuole. In comune arrivano le iene da sistemare gli elementari di piano della lente, le materne di colle atterrato, gli asili alla gammarana e di colle atterrato. Sempre a Teramo bus pericolosi. Nove rischiano il processo. Richiesta di rinvio a giudizio per i vertici frate Arcangeli. L'ex assessore Romanelli e due funzionari del comune. I bus viaggiavano senza documenti, senza attrezzature di sicurezza, con le revisioni irregolari. Il comune di Teramo lo sapeva. Piero Romanelli non avrebbe disposto i controlli sui pulmini pur essendo a conoscenza delle irregolarità. Teramo e Silvi, gli scuola bus viaggiavano senza assicurazione, carte di circolazione e revisioni irregolari. I reati contestati, frode nelle pubbliche forniture, peculato, falso, abuso e attentato alla sicurezza nei trasporti. Poi il restyling del corso, altre lungaggini per il cantiere infinito. I lavori riprenderanno solo nel tratto finale, ma per le pietre bisognerà aspettare, almeno fino a marzo. Non è ancora pronta e ne servirà un'altra, il riferimento alla variante, per modificare il progetto per il prossimo cantiere, lungo corso dei michetti. L'ex colonnello e il nuovo AD della Team, il comandante Pietro Pelagatti, nominato dall'Assemblea dei Soci al posto dell'Avvocato Luca Ranalli, è stato comandante provinciale delle Fiamme Gialle a Teramo dal 2011 al 2014. Avanti ancora, pagina della provincia, migliaia di persone rischiano l'isolamento, strade provinciale al collasso per frane smottamenti, situazioni critiche a isola e nella Val Fino. Tra le frazioni che rischiano l'isolamento, anche quella di San Pietro, paese che durante l'emergenza neve è diventato famoso per essere stato irraggiungibile dai soccorsi per giorni. Poi ancora la cronaca, derubano e ricattano un falegname, un uomo e una donna arrestati per ricettazione e distorsione in concorso, tutto questo a Corropoli, hanno portato via materiale da lavoro per 3.500 euro e hanno chiesto 300 euro per riconsegnarlo. Giulianova, Costantini chiama a raccolta il centrodestra per il vice coordinatore provinciale di Forza Italia. Le elezioni sono vicine, in questione scuole è insensato mettere i doppi turni e di conseguenza abolire le attività pomeridiane. A Roseto, scuole, chiesto l'aiuto degli ingegneri, il Comune cerca di accelerare le verifiche sismiche sugli edifici e a Montepagano indirittura d'arrivo per la messa in sicurezza del Campanile. Avanti ancora con le pagine dello Sport, Teramo per la semifinale, ma pensando a Fano, nel pomeriggio quarti di Coppa contro l'Ancona, ma a tenere banco è anche la sfida salvezza di lunedì al Mancini. In Coppa Italia i biancorossi puntano al passaggio di turno che potrebbe voler dire semifinale. Poco spazio per le seconde linee, anche se tra pochi giorni c'è un match decisivo. In Portacalore potrebbe esserci spazio dall'inizio per il portiere di riserva davanti Barbuti più Sansovini. E sempre oggi Pineto e San Nicolò in campo per i recuperi di campionato. La squadra di Amaulo questo pomeriggio al Civitelle di Agnone, quella di Epifani sul campo del Matelica secondo. E poi Giulianova inossidabile, vincente e solidale. I giuliesi, siamo chiaramente nello spazio come leggiamo del CSI, i giuliesi già primi in classifica sono fermamente decisi a diventare una leggenda con la conquista del terzo scudetto. Ritorniamo per qualche istante anche sulle pagine del centro per lo sport. Siamo alla serie D, perché ieri c'è stata la presentazione del nuovo allenatore della Vastese, parliamo di Massimiliano Favo che ha preso il posto dell'esonerato Gianluca Colavitto, Rivoluzione Bianco-Rossa. Favo, Vastese, sono qui per portarti ai play-off. Il nuovo tecnico già da domenica col Matelica cercheremo di risalire la china, il presidente Bolami. Separarci da Colavitto è stato doloroso ma inevitabile. Il DS De Filippis trovare libero in questa fase della stagione un allenatore preparato come lui per noi è stato un vero colpo di fortuna. Poi in basso Martinsicuro Paterno impaglio la Coppa, oggi alle ore 15 la finale tra due delle prime tre in classifica del campionato di eccellenza. Calcio a 5, la Winter Cup sarà abruzzese, oggi alle 18.30, diretta TV su Fox Sports, il derby Pescara-Acqua e Sapone assegnerà il trofeo. I nero-azzurri strappano applausi e liquidano la luparenza, i biancazzurri soffrono ma battono i padroni di casa. Stasera la terza sfida stagionale, finora un successo a testa. E poi ancora per la box Verna, la donna con i guantoni per domare l'eliti, candidata unica per il comitato regionale da sempre ad alta tensione, me lo hanno chiesto le società. Palla canestro, dia 2, Fulz, Roseto ho voglia di ripartire per sognare i play-off. Dalla parte opposta Proger per la salvezza ed obbligo vincere domenica con Udine. Vediamo anche il messaggero Abruzzo sullo sport Sebastiani, notte di paura. Due uomini hanno dato alle fiamme le auto del Presidente, un atto criminale che si sospetta legato al mondo del calcio. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse. I due teppisti ripresi dalle telecamere. Un'accusa gravissima che adesso va chiarita nell'opinione di Pierpaolo Marchetti. Da Allegri a Tavecchio il calcio è solidale, poi durissimo sfogo della figlia, nessun perdono a questa città, non merita niente, mi fate vomitare. Poi le parole di Sebastiani vogliono prendere la società con l'estorsione. Ci sono persone che vorrebbero comprare il club ma non possono e allora sobillano i tifosi contro di me. E poi ancora Winter Cup, la finale è tutta a Bruzzese, come abbiamo visto Pescara e Questa vuole si contendono oggi il trofeo. Biancazzurri battono il Napoli, Nelazzurri la Luparenza. E poi tensione all'Aquila. Morgia pensa alle dimissioni, voci di un confronto molto animato tra il tecnico e Ranucci. Noi ci fermiamo qui con Mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti dei nostri notiziari alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese. Attenzione, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.